La Puglia fino al 2020 avrà circa 15 miliardi di euro, 3 miliardi e 100 della programmazione 2007-2013 ancora da spendere secondo il monitoraggio al 31 dicembre 2013 e circa 11 miliardi e 800 milioni della programmazione 2014-2020. Questi soldi sono i soldi dei programmi cofinanziati per metà dall'Italia per metà dall'Unione Europea. L'Unione Europea, il 2 giugno, con le sue otto raccomandazioni, ci ha ricordato che nella gestione dei fondi europei continua a ripercuotersi l'inadeguatezza della capacità amministrativa, la mancanza di un controllo sulla qualità, la mancanza di un controllo sulla trasparenza. Questo sicuramente inficia la buona gestione dei fondi europei e infatti l'Unione Europea sottolinea che sono stati realizzati solamente interventi incompleti e parziali. Un esempio di buona gestione dei fondi europei in Puglia è sicuramente il distretto della Meccatronica dove si è deciso di puntare su un determinato specifico settore di beni, si è deciso di finanziare la ricerca. La ricerca ha prodotto generazioni di innovazione, brevetti, che hanno consentito a questi beni di essere competitivi nel mercato internazionale e così un paese come Modugno ha potuto avere l'invenzione del Common Rail da parte del professor Ricco.